Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo alla vicenda Tecra incontro proficuo oggi in prefettura Caltanissetta, i lavoratori saranno pagati lunedì 9 maggio prossimo la CGL aveva diffidato la società campana che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti La Tecra pagherà la retribuzione di marzo ai propri dipendenti entro lunedì 9 maggio prossimo e quanto scaturito al termine dell'incontro che si è svolto stamattina in prefettura Caltanissetta la CGL ha ribadito la necessità di azzerare per sempre la sofferenza dei lavoratori e di svincolare il pagamento dello stipendio dal destino dei debiti fuori bilancio La stessa organizzazione sindacale ha avanzato la proposta al tavolo di erogare la retribuzione ogni 15 giorni così da portare serenità ai lavoratori e alle loro famiglie All'incontro di oggi era presente l'assessore comunale Fabrizio Morello che ha ribadito la puntualità del comune al pagamento dei canoni mensili e ciò consentirà alla Tecra di erogare la retribuzione L'incontro di oggi arriva a poche ore dalla diffida presentata da Ignazio Giudice il segretario confederale della CGL nella quale si chiedeva il pagamento immediato degli stipendi La diffida era stata recapitata alla stessa Tecra, al sindaco Domenico Mersinese e al prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta Giudice denunciava la grave situazione che riguarda i lavoratori inaccettabile, inspiegabile e illegittima Nonostante le ripetute richieste sollevate dal sindacato in svariate sedi la Tecra ha più volte affermato che la mancata corresponsione degli stipendi dipenderebbe dal mancato pagamento da parte dell'ente committente di vari servizi cosiddetti aggiuntivi svolti dalla stessa società campana che ne rivendica tutt'oggi il saldo e non ancora regolarmente riconosciuti e contabilizzati dal comune La CGL non può accettare che problematiche di qualsiasi genere relativi all'esecuzione ovvero interpretazione del contratto di appalto possano ricadere sui lavoratori che hanno svolto e continuano a svolgere regolarmente la propria attività considerato che qualsiasi circostanza che riguarda i rapporti tra appaltatrice e committente non ha e non deve avere alcun rilievo nell'ambito del rapporto di lavoro tra i dipendenti e la Tecra non potendo più intugiare oltre alla luce del perdurante e inaccettabile inadebimento delle norme contrattuali e di legge a tutela dei lavoratori da parte della società che gestisce il servizio l'organizzazione sindacale aveva diffidato la stessa società a pagare il dovuto il tutto entro inoltre una settimana a decorrere da ieri intanto ieri sera alcuni operai della Tecra si sono legati in aula consigliare durante i lavori della Sise Civica chiedendo alla Giunta di intervenire affinché la Tecra provveda al pagamento delle aspettanze considerato che il Comune ha saldato tutte le fatture di sua competenza intanto i residenti di via Damaggio Fischetti nel pieno centro storico a Gela chiedono all'amministrazione comunale di punire coloro i quali lasciano la spazzatura in strada a ogni ora del giorno via Damaggio Fischetti, quartiere San Giovanni in pieno centro storico a Gela cumuli di spazzatura fanno una bella mostra di sé e non è un bel vedere i residenti della zona non ci stanno di chi la colpa? chi ha scambiato un tratto di strada così importante in una vera e propria pattumiera a cielo aperto e scoppia la protesta buttano le cose quando ci sono i giorni stabiliti, martedì e sabato i signori non vogliono tenere nessuna cosa a casa però le case degli acci non sono un secchio di spazzatura anche perché qua siamo in pieno centro storico in centro storico, le persone dà una brutta impressione noi facciamo di tutti, quelle che abitiamo, curiamo le piante, teniamo pulite poi sono queste dello stesso quartiere che fanno che qualcuno è indisciplinato e maleducato abbiamo speso tanti soldi con la trega per fare questa differenziata ma le persone non capiscono che comunque l'immontizia non la possono buttare qua noi abbiamo un'attività e dobbiamo comunque guardare ogni giorno questo scempio tutte le persone che vengono a mangiare devono guardare questa cosa non va bene, non si può lavorare più perché sta diventando una situazione insostenibile noi da diverso tempo chiediamo alla gente che viene a buttare la spazzatura di evitare però pertanto se ne fregano quindi non sappiamo più cosa fare qui tutte le sere è pieno di spazzatura quindi noi non sappiamo a chi rivolgerci noi chiediamo all'amministrazione di prendere provvedimenti per questo discorso qua perché noi essendo cittadini, avendo l'attività e paghiamo le tasse pertanto vogliamo che qualcuno prenda provvedimenti per questo intanto a Niscemi al via la task force per il mantenimento dell'igiene pubblica e la tutela ambientale che l'amministrazione comunale retta dal sindaco Francesco Larosa ha disposto tramite l'assessorato all'igiene e alla polizia municipale preseduto da Giuseppe Giugno interventi di pulizia delle aree urbane e bonifica di quelle extraurbane inquinate da cumuli di rifiuti scaricati da persone prive di senso civico e con l'intensificazione della sorveglianza del territorio da parte della polizia municipale volta a contrastare il fenomeno dilagante dell'abbandono dei rifiuti nelle aree boschive e nelle zone periferiche e con l'applicazione delle massime sanzioni previste dalle vigenti normative ai responsabili No di Caltacqua l'ordinanza emessa dal sindaco di Gela Domenico Mersinese con la quale è stato imposto il divieto di erogazione idrica nelle ore notturne in città il gestore del servizio idrico in provincia ha scritto anche al prefetto al presidente del consiglio comunale all'aspe al lato idrico CL6 che sta l'immediata revoca del provvedimento Caltacqua ritiene che non ci siano le condizioni per l'emissione di una ordinanza condincibile e urgente L'ordinanza rappresenterebbe un intervento nel rapporto contrattuale gestore-utente al quale il comune è estraneo La società evidenzia che la distribuzione nelle ore notturne è quella che garantisce alla luce delle condizioni attuali della rete idrica l'erogazione in tutte le zone della città Qualora si applicasse l'ordinanza in alcune zone di Gela non potrebbe essere garantita la fornitura idrica Oltre a ciò le utenze dei quartieri di Macchitella e Manfria serviti dalla rete pubblica dove attualmente la distribuzione è continua 24 ore su 24 verrebbero fortemente penalizzate dalla riduzione delle ore di erogazione E su questo argomento Caltacqua aveva già fornito delle spiegazioni tecniche in occasione della riunione che si svolta al lato idrico CL6 il 28 gennaio scorso e nella quale erano presenti pure i rappresentanti del comune di Gela Già dal 2010 con l'ausilio della turnazione nelle ore notturne in alcune zone della città riferisce Caltacqua la situazione legata alla distribuzione idrica è notevolmente migliorata la frequenza dei turni si è ridotta e tutti gli utenti hanno la garanzia di essere riforniti Ciò si evince anche dal fatto che da quando il sistema di erogazione idrica è stato assestato sulla distribuzione notturna la percentuale di reclami legati alla mancanza di acqua è andato via via scemando in maniera considerevole sino ad essere oggi completamente azzerato In merito invece al rifornimento con le autobotti Caltacqua dice che l'attivazione della servizio nelle aree non servite dalla rete idrica necessita della sottoscrizione di una specifica convenzione con il comune Da oltre due settimane l'ente di gestore del servizio idrico ha inoltrato al sindaco di Gela la bozza di convenzione è rimasta però sin qui senza alcun riscontro Caltacqua ha comunque già predisposto ogni propria azione utile per un rapido avvio del servizio In una nota il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sottolinea che la città si salvi dall'incerto incedere del sindaco mentre si disattendono puntualmente gli atti del Consiglio Comunale si regge in un comunicato l'amministrazione prima dice una cosa e poi ne fa un'altra prima sbaglia e poi corregge con i cittadini come cavie inconsapevoli Il sindaco è spulso dal Movimento 5 Stelle senza programma ai progetti prima interrompe la fornitura con autobotti comunali alle aree della città prive di rete idrica poi di fronte al caos totale che si è creato modifica il tiro e appena una settimana dopo ripristina la fornitura avanzando l'ipotesi di rivalersi con Caltacqua Ovviamente il Movimento 5 Stelle si legge ancora che il programma ce l'ha e lo aveva segnalato la scorsa settimana servire ai cittadini era più importante di procedere a delle beghe interne con chi gestisce il servizio idrico I cittadini si spera avranno di nuovo l'acqua sempre che il sindaco non decida diversamente perché si sa quando si naviga a vista e senza programmazione può succedere di tutto Il direttivo della Confacommercio Ascomgera, la presenza del direttore della Confacommercio Sicilia Salvatore Scalisi incontrerà l'assessore regionale La Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Gianluca Micciche, appuntamento previsto per sabato 7 maggio alle 17 presso la sede dell'associazione in via Cicerone 104 L'incontro è finalizzato alla presentazione del programma regionale Garanzia Giovani per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e delle modalità di implementazione della stessa misura per la cui attuazione la Confacommercio è uno dei soggetti autorizzati dalla regione siciliana Il processo di riorganizzazione territoriale è avviato con la scelta del popolo gelese di lasciare Caltanissetta e di aderire all'area metropolitana di Catania deve necessariamente svilupparsi anche su un altro binario lo sostiene il comitato Gelensis Populus Governo e Parlamento hanno allo studio una profonda riforma delle circoscrizioni giudiziarie e, secondo l'ultima relazione della Commissione Ministeriale che se ne sta occupando attentamente approfondita, si propongono di chiudere tutte le piccole corti di appello e di rivedere sia il numero che i confini dei tribunali Gela e del suo tribunale saranno interessati da questa riforma Non è allora opportuno che anche in materia giudiziaria si prenda atto del nuovo assetto territoriale che vede Gela collocata nel contesto catenese? Che senso ha rimanere con la Corte d'Appello di Caltanissetta interrogativi che si pone il comitato? Sarebbe opportuno, ribadiscono i componenti, iniziare a programmare e a lavorare ad una rimodulazione e ad un allargamento dei confini territoriali del Tribunale di Gela alla luce dei nuovi setti amministrativi anche di altre città vicine ma soprattutto nell'ambito del distretto di Corte d'Appello di Catania che rimarrà senz'altro come una delle più prestigiose, importanti e dinamiche di tutta Italia così come la sua facoltà di giurisprudenza Il comitato Gelensis Populus, nonostante le difficoltà dei rappresentanti delle categorie professionali più interessate che si è finora riscontrata si adopererà per avviare i più opportuni contatti con le rappresentanze politiche e professionali delle comunità interessate affinché si studi, si proponga e si realizzi un nuovo e più razionale assetto delle istituzioni giudiziarie del territorio che gravita sulla città di Gela Il comitato fa appello a tutte quelle rappresentanze affinché abbandonino le posizioni volte alla conservazione della situazione esistente che verrà comunque stravolta dalla prossima riforma legislativa e contribuiscano invece a promuovere un nuovo assetto che risulti più funzionale, oltre che coerente con le scelte di recente fatte dalla popolazione gelese E' stata rinviata domenica 15 maggio dalle 16 alle 20 a causa di ritardi nella consegna dei lavori di messa in sicurezza l'iniziativa promossa dall'archeoclub Gela Invadiamo la torre di Manfria prevista per domenica 8 maggio Guidati dai soci dell'archeoclub i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione che è stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia Per informazioni contattare il 349 2698140 o 349 29 14597 Si darà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presso i locali del Museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume, baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto alla città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine e i presidenti delle associazioni Rotary Club FIDAPA, Lions Club del Golfo, Kivanis, Proloco, Archeoclub, Lega Navale Piume, baciatemi la guancia ardente è un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente perseghiere e mitragliere gelese protagonista in discorso della grande guerra ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità eccoci, seconda parte del telegiornale sulla gazzetta ufficiale, quarta serie speciale numero 33 del 26 aprile scorso è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di Finanza al concorso possono partecipare i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di complimento del quarantesimo anno di età siano muniti di diploma in strumentazione per banda relativo all'ordinamento previgente o di diploma accademico di secondo livello corrispondente conseguiti in un conservatorio di Stato o istituto musicale pareggiato e siano inoltre in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito gdf.gov.it area concorsi online entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla gazzetta ufficiale con scadenza il 6 giugno L'esperienza poco conosciuta ma coinvolgente che ha visto in issegni i personaggi di primo piano durante la resistenza è stata ripercorsa attraverso documenti, narrazioni e video al liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII durante un incontro nell'aula magna voluto dalla dirigente scolastica Irene Collerone in occasione del 71esimo anniversario della liberazione dell'Italia L'esperienza di Salvatore Giuiusa, carabiniere di Mazzarino la storia di ben cinque comandanti partigiani formatisi al liceo classico con particolari inediti e interessanti e la lettura delle pagine del diario di Reletta d'Isola nel racconto dei due anni in cui la famiglia aristocratica della giovane ospitò Pompeo Colaianni, detto Barbato hanno così permesso di sfatare il pregiudizio di una città sopita dove non possono nascere sentimenti forti o la volontà di mutare la storia La resistenza dei Nisseni è stata una realtà importantissima abbiamo avuto numerosissimi studenti di questo liceo ex allievi di questo liceo che hanno combattuto e hanno anche comandato la resistenza tra questi Pompeo Colaianni ma abbiamo voluto ricordare anche la figura di Salvatore Giuiusa che subì il campo di concentramento rimase però fedele ai valori più alti della patria e alla tutela del popolo Beh, è una figura caratteristica non è stato un militante della resistenza in senso stretto perché la sua militanza fu il servizio allo Stato attraverso la sua funzione di brigadiere dei carabinieri ma quando l'8 settembre si dovette scegliere tra l'asservimento ai fascisti e ai nazisti la lotta per la liberazione dell'Italia lui non nebbe esitazione fu deportato nei campi di concentramento si salvò per miracolo una decina di giorni prima che fosse cremato in un forno crematorio quando arrivarono gli alleati a liberarlo non se ne parlò per molto tempo era una persona molto riservata molto legata alla famiglia al suo dovere di carabiniere ma ritenne opportuno tornato dalla prigionia scrivere un libro di memorie che non pubblicò mai nessuno sapeva dell'esistenza se non i familiari di questo libro di questi appunti, di queste memorie sei o sette anni fa questo libro è stato pubblicato è un libro che dovrebbe essere letto perché il percorso, il calvario appunto di chi ha vissuto l'oppressione nazista e ha rischiato la morte si tratta domenica 8 maggio la manifestazione Gela Antica organizzata dalla scuderia Valvole Pistoni di Gela presieduta da Davide Millauro si tratta di un raduno di appassionati di auto d'epoca provenienti da Ragusa, Piazza Merina Enna e Caltanissetta l'appuntamento è fissato per le 10 su Corso Vittorio Emanuele dinanzi al Museo Archeologico dopo la colazione gli ospiti visiteranno lo stesso museo accompagnati dal direttore Ennio Turco e dal presidente dell'archeoclub Gela Nuccio Mulè subito dopo, intorno alle 12 si terrà la sfilata delle auto per le vie cittadine la pagina dello spettacolo sabato 7 maggio al Cineteatro Antitodo di Macchitella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette assieme diverse opere celebre del panorama letterario all'interno di una cornice attuale vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela sentiamo Sono quattro autori importanti partiamo da quello che forse è il più conosciuto dal nostro carissimo Pirantello di cui riproponiamo la favola del figlio cambiato poi altri autori siciliani la verga con due opere la lupa e la cavalieria rusticana e infine un autore che ci appartiene non tanto perché è il nostro è nato in Sicilia ma solo perché ci propone la tragedia di quella che è la nostra cultura siciliana e greca e oripide con la Medea è uno spaccato di vita di quattro donne che si ritrovano insieme a raccontare ognuno la propria vicenda vicende che sono simili e somigliano tanto a quello che è lo spaccato storico di una volta un tema attuale Alice Palumbo quello delle donne e tante donne saleranno sul palco si protagonista è la donna quindi ci sarà una massiccia presenza femminile siamo protagoniste di questo spettacolo io interpreto due personaggi femminili sono due ragazze due giovani donne sicuramente diverse tra di loro quindi due personaggi molto differenti che mi hanno permesso veramente di poter sperimentare questa versatilità nel passaggio da un ruolo all'altro nel potere anche rappresentare diversi volti le diverse sfaccettature dell'essere presenza femminile nella società non solo passata ma anche contemporanea perché come vedrete assistendo appunto allo spettacolo anche la donna attuale la donna moderna può benissimo identificarsi in questi personaggi senza avvertire lo stacco temporale e lo stacco finzionale il personaggio di Mara appunto della lupa è una ragazza innocente un po' ingenua che è costretta a sposare un uomo che inizialmente non ama ma del quale si innamora in un secondo momento perdutamente quindi poi difenderà quest'amore Santuzza invece lo sappiamo l'opera è famosissima ama follemente un uomo che nonostante le promesse e i giuramenti iniziali non ricambia i suoi sentimenti e quindi questo la porterà a una sofferenza indicibile voglio dire che insomma sono due donne fragili ma al contempo forti come soltanto le donne che sanno amare con tutto se stesse sanno essere dobbiamo citare anche le altre protagoniste quindi Liliana Nicosia che interpreterà Medea di Euripide poi Palmira Pardo che interpreterà la favola del figlio campiato la madre e Cavalieri Rosticana nel ruolo di Lola e infine Sabrina Comunale che interpreterà la lupa di Giovanni Verga i nostri maschietti che faranno così faranno da cornice lo Bartolo Antonio è il sottoscritto l'appuntamento è per giorno 7 maggio alle ore 21 al Teatro Antitoto di Machitella mi raccomando vi aspettiamo e sempre al Cine Teatro Antitoto di Machitella Gela e Il Bimbo di Vetro il film in programmazione vi ricordiamo gli orari 17.30 19.30 e 21.30 ed è prevista per venerdì 6 maggio dalle 9.30 la mini Olimpia di Atletica Leggera l'iniziativa che si trarrà alle mura Timoleontè è promossa dall'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Verga si tratta della settima edizione abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito